Oggi vi mostro un oggetto unico in Europa e non pecco di presunzione a dire forse unico al mondo. Ci troviamo a Castel San Pietro Terme, precisamente nella cella campanaria del campanile del santuario del Santissimo Crucifisso, progettato nel 1926 dall'ingegnere Luigi Gulli e inaugurato nel 1930. Perché dico unico al mondo? Perché possiede 55 campane fuse dalla ditta Brighenti su due celle campanarie. Le campane presentano diametri e dimensioni differenti. La più piccola è circa 20 cm di diametro e la più grande è circa 1,20 m. Sono suonate da una tastiera da pianoforte che si trova al piano terra. Allo spingere del tasto della tastiera parte un sistema elettropneumatico che fa muovere il batacchio delle campane, le quali sono fisse, e quindi ne fa uscire il suono. La genialità del Cavalier Gollini che ha progettato tutto questo sistema risiede anche nell'avere progettato questo oggetto ruotante che è molto simile a un organo Hammond, dà la possibilità di diffondere il suono all'esterno. Tutto questo si trova dentro a una torre alta e snella, parliamo di circa 30 metri di altezza, che presenta masse importanti, circa 8 tonnellate, proprio alla sommità negli ultimi impalcati. E' ovvio che manifesta un comportamento tipico a pendolo e da un punto di vista sismico è molto importante studiarne il suo comportamento tramite delle indagini dinamiche e vibrazionali.